Cari amici vicini e lontani, stufi delle solite nazionali, delusi dalla FGC, Federazione Italiana, gioco, calcio, ecco adesso ve lo do io un buon motivo per andare allo stadio e divertirvi e contemporaneamente fare una buona azione. Giovedì 10 luglio andate allo stadio Curi a Perugia dove la nazionale italiana Gezzisti e la nazionale italiana Cantanti si sfileranno come sempre per una buona causa. Tre sono le associazioni che questa volta si spartiranno equamente gli incassi, sono convinto che voi parteciperete numerosi, ricordate giovedì 10 luglio Stadio Curi, giovedì 10 luglio Stadio Curi, andate numerosi allo stadio, nazionale italiana Gezzisti, nazionale italiana Cantanti, ciao! Grazie a tutti!